I fari della sesta giornata del girone di ritorno in Serie D saranno puntati principalmente sullo stadio Valle Anzuca di Francavilla, dove scende la campolista Cesena. Giallo-Rosso in estriscia positiva da due turni, aspettando il recupero con il campo basso e che nelle ultime ore del mercato professionisti hanno visto arrivare da Teramo il giovane portiere Natale classe 2001 e il centrocampista classe 2000 ad Andrea. Arrivo il primo che serve per compensare l'infortunio di Spataro, che ha riportato una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore sinistro. I tempi di recupero saranno valutati in itinere dallo staff sanitario Giallo-Rosso. Il Cesena invece è reduce dal recupero infrasettimanale vincente contro l'Olimpia agnonese 1-2, ha rinforzato la leadership dei bianconeri e il vantaggio, seppur ridotto rispetto al materica che deve ancora recuperare, rimane comunque relativamente di sicurezza. L'altra gara che un abruzzese giocherà tra le mura amiche è quella dell'Avezzano, che al De Marsi se la vedrà proprio con l'Agnonese. I molisani sono in crisi nerissima dei risultati, non vincono dalla trasferta del Mariani Pavone di Bineto dello scorso 12 dicembre. Stanno praticamente giocando a ritmo serratissimo dopo i rinvii delle settimane precedenti. Biancoverdi dall'altra parte invece sono reduci dall'affermazione roboante di una settimana fa sul campo del Notaresco per 4-1. Una vittoria tanto inaspettata nelle proporzioni quanto decisiva per rilanciare le ambizioni di salvezza, che guardando la classifica non è poi tanto distante. E ha conferma che la squadra di Giampaolo si sta esprimendo meglio lontano da casa, dopo l'1-3 rinvilato a metà gennaio al Mancini di Castelfidardo. Tutte le altre invece giocano in trasferta, a partire proprio da quel Notaresco terzo della classe che fa far visita alla Savignanese. Il campo non è di quello impossibile, ma all'andate rosso-blu di Cudini e Al Savini conobbero la prima amarezza di stagione contro i Romagnoli. Notaresco che dovrà fare a meno da adesso in avanti di Liguori, che ha accettato la grande chance a Catania in Serie C, un'opportunità che non poteva rifiutare. La Savignanese in questo 2019 in casa non sbaglia più un colpo, ma la qualità di gioco dell'11 di Cudini può essere l'arma vincente in un terreno di gioco particolare come quello di Martorano. In Romagna, ma qualche chilometro più a sud, c'è invece il Pineto sul campo del Sant'Arcangelo. L'11 di Daniele Amaolo ha perso Amadio a centrocampo per infortunio e Marianeschi, che lo aveva sostituito con l'area canatese, ha dovuto dare forfè a gara in corso, ma dovrebbe comunque farcela a partire dall'inizio. La formazione per il resto dovrebbe essere identica a quella che è uscita sconfitta dal campo amico sei giorni fa. Soprattutto c'è bisogno di ritrovare i tre punti per non perdere contatto con la schiera di squadre che vogliono giocarsi la qualificazione ai prossimi play-off. Partita delicatissima invece per la vastesi a Forlì, terza compagine a giocare nel giro di pochi chilometri. Gli aragonesi sembrano essersi fermati dopo un inizio d'anno promettente e il Morgagni di Forlì è campo tutt'altro che semplice. Peraltro Tegola per Montani, che perde per infortunio il suo uomo gol, Vito Leonetti, che si è sottoposto a accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un'elongazione del retto femorale della coscia destra. Stop che complica ulteriormente il lavoro del tecnico, già costetto a rinunciare da tempo a Daniel Giampaolo, che potrebbe rientrare però tra una decina di giorni. Il pareggio ha sciuffato in extremis all'Aragona, col Sant'Arcangelo ha lasciato un mix di pericolo scampato ed ennesima occasione mancata di rilancio. Infine il Giulianova, che ha centrato in settimana la semifinale di Coppa Italia a scapito dell'Aquila Montevarchi e che con l'entusiasmo del grande risultato ottenuto va sul campo della vice campolista materica. In campionato però, al netto del successo nel derby con l'Avezzano, c'è necessità di ricominciare a correre per provare a tornare nella parte sinistra della classifica e in ogni caso per non essere risucchiati in quella destra, molto fluida e in cui alcune compagini, tipo il campo basso, hanno inestato ad esempio marce molto alte. Grazie.